Cari amici, oggi voglio parlarvi di un concetto che da un po' di tempo mi piacerebbe si portasse avanti, ed è l'amministrazione partecipata. L'amministrazione partecipata è un concetto vecchio quando il mondo e consiste nel fatto di fare partecipare all'amministrazione attiva i cittadini, a prescindere dai riconoscimenti istituzionali che molto spesso vengono gestiti solo dalla politica, quindi a prescindere da quella che è la squadra assessoriale, che quasi sempre è frutto non di determinazione da parte degli uomini e di riconoscimento nei confronti delle capacità che ognuno di essi può avere o delle competenze, ma è magari frutto di equilibri, voglio usare un termine gentile, di equilibri politici che subito dopo le elezioni in qualche modo si debbono rispettare. Questo molto spesso porta a dei risultati fatiscenti, a dei risultati poco produttivi. Si può temperare a questo, perché purtroppo è un problema che esiste, con l'amministrazione partecipata. L'amministrazione partecipata è un concetto molto semplice, significa fare partecipare in maniera organizzata e non a macchia di leopardo la cittadinanza nell'amministrare la città in cui si vive. È facile immaginare che chi abita in via Senatore San Martino non conosca i problemi di chi abita in via Carlo Alberto e viceversa, perché vivendo in una zona, abitando quotidianamente il quartiere e rientrando ogni giorno a casa, se ne conoscono in qualche modo vizi e difetti, pregi e virtù. Per cui avere dei riferimenti in ogni quartiere, avere delle protesi dei cittadini di buona volontà che vengono indicati attraverso un metodo o più metodi che l'amministrazione può mettere in atto, significa avere dei riferimenti riferimenti che in qualsiasi momento e in maniera organizzata possono dare indicazioni su quelli che sono i problemi di quel determinato quartiere o di quella determinata via. È un concetto semplice, in moltissimi paesi, in moltissime città è già una realtà, sono così i responsabili di quartiere, diventano un'aggiunta a costo zero che diventa più operativa dell'aggiunta stessa, perché io che abito in quel determinato quartiere ho non solo la necessità che venga risolto un determinato problema, ma che comunque la qualità della vita di quel quartiere possa migliorare, al contrario magari di un assessore che durante tutta la sua legislatura magari quel quartiere non lo ha mai visitato. Può capitare, noi ne abbiamo quartieri che sono da tempo, come dire, abbandonati a loro stessi. Detto questo, il procedimento è semplicissimo, noi lo abbiamo, come dire, proposto tempo addietro, in campagna elettorale, durante le puntate di candidato a bordo, tutti i candidati si erano, come dire, prefissati il cosiddetto responsabile di quartiere, la cosiddetta amministrazione partecipata. Non se ne è fatto nulla. E allora Canicati andrebbe in una mappa non virtuale, ma assolutamente fisica, cartacea, andrebbe divisa in circa 20 zone 20, 22, 23 quelle che sono, io ho fatto un po' con Google Map la mappatura del territorio, una ventina di zone con una ventina di responsabili di quartiere. I responsabili di quartiere qual è il ruolo che ha i responsabili di quartiere? È quello di, andando a partecipare alla vita attiva del paese, è quello di relazionarsi con l'amministrazione, quindi l'amministrazione deve, come dire, presupporre, predisporre, come dire, quegli elementi necessari, quelle riunioni, incontri periodici per fare il punto della situazione e vedere quali sono le priorità, quali sono le soluzioni, quali sono i problemi che si possono affrontare e si possono risolvere. Non significa che avere un'amministrazione partecipata e andare in crisi perché non si riesce a rispondere a tutti i problemi che il nostro paese ha. Significa tutt'altra cosa, significa avere una mappatura e quindi anche la presa di coscienza dello stato delle cose del nostro paese. È normale che un sindaco o un assessore non sia uno e trino e che non si possa trovare in cielo e in terra in ogni luogo. Ed è normale quindi che l'amministrazione partecipata, cioè fatta dai cittadini, diventa una protesi sul territorio. Divendano gli occhi, le gambe, le braccia, divendano quegli elementi necessari per migliorare la qualità della vita di questo paese. È un processo molto semplice, va fatto in maniera organizzata, va creata una squadra di una ventina di persone con le quali ci si riunisce almeno ogni 15 giorni, con le quali si fa il punto della situazione. A questi signori gli si può dare a disposizione anche una piattaforma e noi di Canicatti Web abbiamo come dire, tempo addietro, lanciato la proposta, una piattaforma di informatica semplicissima a costo zero che consenta a queste persone di buona volontà di potersi interfacciare con l'amministrazione, quindi realizzare un database di quelle che sono le priorità del nostro paese e iniziare a camminare in maniera organica. Perché ho affrontato questo argomento? Perché noi della nostra testata siamo diventati i catalizzatori, l'ufficio reclami, l'ufficio lamentele di tutto il paese, giustamente, perché magari ci segnalano questo, quello o quell'altro ancora. Ora, siccome noi non siamo deputati a questo, lo facciamo per nostra dentologia professionale, però ci piace poter dare un suggerimento e non è una critica, non è una polemica nei confronti di alcuno, è un suggerimento, ma è un suggerimento tra i tanti che noi abbiamo dato in questo lasso di tempo, in questo periodo, tutte soluzioni a basso costo, a costo zero, perché non si vogliono applicare? Perché non si vogliono realizzare? Perché se una cosa non ha un costo, ma necessita solo della buona volontà, non si vogliono fare queste cose. Io ho una domanda alla quale non riesco a rispondermi. Amministrazione partecipata, cittadini, a prescindere dai ruoli assessoriali, delle giunte, di tutte queste menate che non portano nulla, debbono poter partecipare all'amministrazione della città. Questo presuppone anche un altro ragionamento su come si spendono i soldi di questa città, che ha a disposizione di fare questa città. Si vuole fare uno specchietto per spiegare alla casalinga di Boldiera qual è lo stato finanziario del nostro paese? Cioè abbiamo 100, abbiamo di debiti 150, in cassa abbiamo 30, possiamo spendere questi soldi, intendiamo spendere questi soldi in questo modo, in questo modo e in questo modo. Fare uno specchietto semplice in modo tale che un imbecille come me lo possa leggere e lo possa capire. Dopodiché quando si decide di come spendere soldi ci possono essere i responsabili quartiere che possono dire la loro e possono dire ascoltami, piuttosto che spendere 3.000 euro di SIAE e 8.000 euro per i vigili urbani per un carnevale che ha fatto ridere, ma non nel senso in cui ci auspicavamo, li possiamo spendere adesso o per intervenire sul parco Pertini o per aggiustare i due canesti del parco Robinson, perché non abbiamo soldi a sufficienza. Anche il fatto di dirlo alla città, non si sta facendo il carnevale, non si è fatto il carnevale perché non ci sono soldi a sufficienza e riteniamo che piuttosto che spendere 10.000 euro in un carnevale che ci denigri ancora di più possiamo adoperarli per aggiustare un pezzo di paese, un quartiere. E' questa la democrazia e l'amministrazione partecipata, è quello di farsi aiutare. Io capisco che in campagna elettorale si possono coniare tutti gli slogan che vogliamo, ma vogliamo coinvolgere la gente, la vogliamo rendere responsabile, gli vogliamo inculcare il fatto che se si vede un atto di vantalismo proprio perché sei il responsabile di quartiere sai chi andare a beccare, se c'è uno che butta la spazzatura fuori dagli orari consentiti il responsabile di quartiere lo cazzia ancora prima poi di intervenire l'amministrazione per multarlo. è un percorso, se non si inizia questo percorso non abbiamo dove andare, non possiamo immaginare di delegare la salvezza di questo posto ad un uomo o ad un ristretto gruppo di uomini, non si va da nessuna parte, ma neanche l'uomo si può convincere che da solo possa davvero fare qualche cosa per questo paese. Per cui il mio è un appello fatto al sindaco, fatti aiutare dai cittadini, fatti aiutare dai cittadini, sono gli unici che possono essere nelle condizioni di poter cambiare questo paese, fatti aiutare dai cittadini. Organizza un percorso di amministrazione partecipata dove la gente è di buona volontà e ve ne è parecchia, molto di più di quanto noi possiamo immaginare. Coinvolgiamoli, facciamo gruppo, facciamo squadra, quindi non si sta dicendo togliti tu che ci mettiamo un altro, si sta dicendo cerchiamo di coinvolgere la cittadinanza, cerchiamo di coinvolgere i quartieri, individuiamo le persone per bene che ci sono in ogni quartiere e con loro collaboriamo, altrimenti non si va da nessuna parte. Io mi auguro che questo appello venga accolto, anche perché ci ritorneremo sopra. Buona giornata a tutti.